Ti piacerebbe imparare ad applicare correttamente una cerniera sui tuoi progetti di cucito creativo? Il vestitino copri zip è quella parte di tessuto applicata negli astucci, nelle pochette, nei beauty case, atta a ricoprire la cerniera. Sei capace ad applicarlo correttamente? Quante volte ti è capitato di avere lo spessore quando stai ripiegando una cerniera zip? Sai come ottenere un effetto piatto, pulito e perfetto nella realizzazione del tuo vestitino copri zip? Se hai voglia di applicare una cerniera con fodera completamente a macchina e vestitino copri zip scoprendo anche il trucco per come non avere lo spessore negli angoli, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Poiese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube! Vediamo assieme il video tutorial di oggi! Bentornati cuciamici e cuciamiche nei miei video tutorial e benvenuto a te se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi parliamo di cerniera zip, di applicazione della cerniera zip e del vestitino copri zip. Ma prima di entrare nel vivo di questo nuovo video tutorial mi invito a cliccare un bel pollice in su su questo video per supportarlo e iscrivervi al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre aggiornati e dunque ricevere anche le notifiche su tutte le mie pubblicazioni. Il vestitino copri zip è quel piccolo dettaglio di cucito creativo e sartoriale che ci permette non solo di rivestire un progetto come per esempio il beauty case che è un video tutorial con il cartamodello scaricabile che trovate linkato qui sotto, infatti vi basterà soltanto cliccare sul titolo del video e vi comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato ai video tutorial correlati dove trovate questo beauty ma anche dove trovate la borsetta clutch. Questo vestitino ci serve per rifinire un eventuale cerniera zip più curta oppure, seconda opzione, ci serve per andare a rifinire una cucitura che va poi ripiegata come questa del beauty o ancora ci serve per rifinire un progetto quando anche lo dovessimo foderare e dunque avere una finitura davvero molto pulita nella nostra lavorazione eccola qui perché è bella da dritto e bella dal rovescio. In questo video tutorial vedremo anche come andare ad applicare una cerniera sul tessuto esterno e interno che quindi chiameremo fodera completamente a macchina avendo anche il trucco di non avere più la fodera della cerniera che si impiglia nella cernierina stessa. Il materiale occorrente ci servirà un tessuto interno per la fodera tagliato in doppio ovviamente perché ci sarà lato destro e lato sinistro, un eguale quantitativo di tessuto esterno per la parte esterna del tessuto, uno scarto di tessuto largo almeno quanto la cerniera o meglio anche un pochino di più come vedete per effettuare il vestitino e una cerniera zip qualunque. Io vi ho inserito dei colori molto contrastanti tra loro il rosso, l'azzurro stampato, l'azzurro scuro a tinta unita proprio per farvi meglio capire il procedimento. Creazione del vestitino copri zip. Per andare a creare il vestitino dobbiamo prendere la striscia che avevamo di tessuto alta 3-4 cm, la tagliamo a metà, non importa molto la lunghezza adesso poiché vedrete che nel passaggio successivo la andremo anche a tagliare. Dobbiamo prendere due spillini e andare a posizionare il vestitino a copri zip possibilmente all'interno, quindi da questo lato a sinistra verso dunque il cursore della cerniera zip perché in questo modo non si vedrà il cursore lavoro finito. Se invece desiderate che si veda il cursore ponete il vestitino alla destra del cursore stesso. Io lo vado ad inserire in questo modo, punto uno spillo a solitamente un centimetro di margine di cucitura dall'inizio della parte finale della mia cerniera. Prendo poi l'altra parte di vestitino, apro un pochino la cerniera perché attenzione altrimenti se vado a il vestitino prima del cursore della cerniera non si aprirà più nulla, per cui apro un attimino questo e con l'ausilio di un primo spillino vado eventualmente a chiudere e tenere bloccato un pochino l'apertura stessa, eccolo qui, del mio vestitino e della mia cerniera e vado a prendere il vestitino a copri zip, lo appoggio sopra alla cerniera zip e vado dunque una volta che adesso è bello chiuso a spillare il mio vestitino a copri zip proprio sopra alla cerniera stessa, garantendome così una perfetta chiusura. Quando dobbiamo cucire sopra ad una cerniera prestiamo sempre particolare attenzione ad andare a cucire molto piano e quando arriviamo in prossimità eventualmente dei cursori proseguiamo nella nostra cucitura a mano, ossia ruotando la manopola della macchina per cucire senza dunque schiacciare il pedale. Il risultato che otteniamo è quello di avere una cucitura nel lato rovescio del vestitino che una volta ripiegata, rivoltata, mi garantisce un vestitino bello perfetto ma abbiamo ancora tutto lo spessore della cerniera zip da gestire. Intanto ecco qui il vestitino, vediamo ora come applicare la cerniera con vestitino a un tessuto esterno più fodera e anche come evitare lo spessore di tutta questa parte finale che è veramente ingestibile nei nostri progetti di cucito creativo sartoriale. Applicazione della cerniera zip con vestitino a un tessuto esterno più fodera. Per applicare il vestitino della cerniera zip su un tessuto che possa essere un beauty case, un astuccio, qualsiasi voglia progetto, abbiamo bisogno del tessuto esterno, quello fiorato, della fodera, quella tinta unita. Prendiamo dunque il vestitino e lo andiamo a riporre dritto contro dritto nel nostro tessuto esterno, prestando attenzione che il cursore sia già aperto in modo tale che non avremo difficoltà ad intervenire proprio nei primi centimetri di cucitura sulla cerniera lampo e ci accorgiamo già che il fatto di avere un vestitino copri zip ci permette di andare eventualmente a lavorare zip più piccole su progetti più grandi e questa cosa può essere veramente molto molto comoda. Però non abbiamo ancora affrontato il famoso trucco e parrucco dello spessore della plastichina della cerniera che vedremo tra poco. Andiamo a prendere dunque il tessuto esterno, la zip riposta dritta contro dritta, prendiamo altresì la fodera e già da qui inizia un lavoro di precisione perché dobbiamo andare a spillare dritto contro dritto mantenendo sempre la stessa altezza tra il tessuto esterno, la parte del vestitino copri zip e poi della cerniera e il tessuto di fodera. Queste parti devono stare sempre perfettamente allineate, l'unica che può sbordare un pochino in realtà è quella del vestitino perché magari abbiamo un vestitino più grande rispetto alla cerniera zip ma l'importante è che quando siamo qui tessuto esterno, zip e fodera siano sempre perfettamente alla stessa altezza e proseguiamo in questo modo spillando tutta la cerniera zip in un passaggio solo tra il tessuto esterno, l'interno e la zip con vestitino. Ora ho bisogno di innestare il mezzo piedino, detto anche piedino per cerniere standard e andare ad innestarlo sulla macchina per cucire semplicemente esercitando un click di pressione e spostando poi l'ago a sinistra. Vado a porre dunque il mio tessuto sotto al piedino stesso a margine un centimetro e lo trovo indicato nel numero uno nella griffa della placca dell'ago, abbasso il mio piedino e inizio ad effettuare la cucitura. Sarà una cucitura semplicissima se ho aspillato tanto e quindi ho tenuto ben fermo il tessuto e mi troverò ad arrivare in prossimità del cursore, dovremo abbassare l'ago, alzare il piedino, alzare anche la fodera azzurra e andare alla ricerca del cursore che è proprio qui e portarlo avanti con una leggera pressione. Se abbiamo effettuato la cucitura troppo attaccati alla cerniera potrebbe essere che facciamo fatica a portare in sul cursore, semplicemente allora un punto indietro e un punto avanti un pochino più largo. Riabbassiamo il piedino e proseguiamo nella nostra cucitura. Il mio consiglio personale è di utilizzare questo tipo di piedino perché grazie alla sua spalla sinistra o destra, a seconda del lato in cui cuciamo, ci permette di fare da muro, da protezione contro lo spessore dei dentini della cerniera lampo. La mia prima parte di cerniera è applicata, questa è la fodera, questa è la parte esterna e vedete come la cucitura di questa cerniera sia veramente tutta bella parallela e omogenea, ma al momento abbiamo raggiunto l'obiettivo tessuto esterno, fodera e vestitino, ma quando apriamo la cerniera lampo la fodera si può impigliare. Vediamo dunque come risolvere questo problema attaccando prima però e ripetendo lo stesso procedimento sull'altro lato della cerniera, per cui applichiamo il tessuto esterno e la fodera come appena effettuato. Cucire a macchina la fodera interna applicata con la cerniera. Per impedire alla fodera interna, quando apriamo e chiudiamo la zip, di impigliarsi nel percorso della cerniera zip stessa, devo prendere la fodera, la riconosciamo perché è azzurra, e devo lasciare invece il tessuto esterno a sinistra, mentre i margini di cucitura assieme alla fodera, assieme allo vestitino a destra. Vado dunque ad appoggiare il tutto sulla mia placca dell'ago e il trucco e parrucco è l'utilizzo in realtà del piedino a bordo stretto lamella centrale. Perché? Perché la lamella centrale, una volta che abbasso il piedino, mi permetterà di fare da perfetto spartiacque tra la cucitura del vestitino e della fodera e poi proseguendo anche tra la parte di cerniera e la parte di fodera. Mentre spostando l'ago semplicemente di un paio di punti a destra rispetto alla lamella centrale, potrò effettuare una ribattitura precisa, pulita e sempre parallela. Anche in questo caso, quando arrivo in prossimità del cursore, abbasso l'ago, alzo il piedino e proseguo nella mia cucitura andando in primis a cercare il cursore. Qui sotto poi lo porto avanti e se siete state furbe nella vostra attaccatura di cerniera o meglio nella vostra apertura di cerniera, l'avete lasciata aperta per una buona fetta in modo tale che non vi trovate all'inizio della zip stessa. Riabbasso il piedino e proseguo nella mia cucitura. Rimuovere lo spessore della cerniera zip. Quando ho terminato il lavoro, il risultato che ottengo è un lato esterno di tessuto ben lavorato ma non ribattuto, perché vedete che la ribattitura non è a vista qui, mentre vedete la ribattitura vista nel lato rovescio. L'ho cucita apposta con un filo nero che tecnicamente come colore non c'entra assolutamente nulla, ma proprio per farvi meglio vedere il risultato. La ribattitura sarà solo sulla fodera e non sul tessuto esterno. Cosa fare però se dobbiamo lavorare il nostro beauty case, il nostro cestino, il nostro progetto di cucito creativo proprio a questa larghezza e dunque non sfruttare tutta l'ampiezza lasciata dal vestitino coperzip? E dunque come facciamo a rimuovere questo spessore che spesso ci dà problemi quando poi vogliamo andare a chiudere dritto contro dritto un lavoro e non vogliamo assolutamente ottenere tutto questo spessore? La soluzione è semplice, basta rovesciare il nostro progetto, prendere la parte interessata e con consiglio di una forbice prestate molta attenzione a tagliare solo e ripeto solo, il mio consiglio personale, il pezzetto di materiale interessato dalla cerniera zip e ovviamente dico solo questo perché non dovete tagliare il tessuto sottostante. Andiamo a tagliare questo pezzetto anche al di là del nostro cursore metallico purché il nostro taglio non vada oltre il segno della cucitura. La stessa operazione la andiamo a ripetere dall'altro lato e andiamo a tagliare anche in questo caso la parte di cerniera zip interessata. Se ci resta per caso un piccolo pezzettino di cursore come in questa casistica qui di inizio non è un problema perché questa parte di cursore è quella comunque interessata dal finale dalla chiusura proprio della cerniera lampo e l'importante eccolo qua vedete è che non ci sia spessore alcuno perché lo spessore è davvero pari a zero su questo segmento. Se poi a 2-3 mm abbiamo ancora un po' di spessore non è mai un problema e guardate adesso qui il risultato che otteniamo. La cerniera zip è veramente piattissima in questo punto e dunque la possiamo utilizzare per andare a cucire proprio a margine di ogni nostro progetto. Al tempo stesso abbiamo un lavoro estremamente pulito dal lato diritto e dal lato rovescio e quando andremo dunque a chiudere i nostri progetti di cucito creativo saranno veramente belli piatti. Vi consiglio di andare a vedere il linkato qui sotto in info box basterà cliccare sul titolo del video e vi comparirà la descrizione completa il paragrafo dedicato all'elenco dei materiali o meglio dei video tutorial correlati perché trovate tanti video tutorial come l'astuccio, il beauty case, le varie pochette dove ho utilizzato il vestitino copri zip e dunque potrete andare ad approfondire l'applicazione perfetta di questi progetti grazie a questa tecnica. Bene cuci amici e cuci amiche io vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi se vi è piaciuto lasciate un bel pollice inalzato e mi raccomando iscrivetevi al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzati e ricevere le notifiche su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese